Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bentornati sul canale se siete di ritorno, invece benvenuti se siete nuovi. Io sono Martina, trader dal 2015 e trading coach della community degli Ichimokers, di cui potete trovare tutti i link qua sopra e qua sotto in descrizione. Oggi sono qui con questo nuovo video, ma soprattutto con questo nuovissimo format e spero che questo possa essere il primo video di questo format che durerà tutto l'anno e oltre ovviamente, dove vi farò vedere quelle che sono state le mie performance di gennaio, perché chiaramente è il mese appena concluso. Per chi sta vedendo il video al tempo attuale è chiaro, magari per chi lo vedrà più avanti, perché gennaio, perché è il mese che si è appena concluso. Ammetto che ho un pochettino d'ansia a portare questa tipologia di video, perché mi rendo conto che purtroppo in Italia siamo sempre un pochettino indietro, nel senso che è sempre più facile andare a puntare il dito, andare a criticare e quindi in tutta la mia carriera, diciamo, di creazione di contenuti ho sempre cercato di andare con i piedi di piombo, cercando di non andare a toccare la sensibilità di nessuno. Ecco, sono arrivata al punto, ragazzi, dove non me ne frega più niente, detto proprio sinceramente. Mi sto rendendo conto che mi sto facendo sempre più strada e sto attirando a me le giuste persone con la giusta mentalità. Forse perché un po' la mentalità sta cambiando o forse perché semplicemente io sto attirando quelle giuste per me. E quindi mi sono detta, basta smettere di fare contenuto per la paura di persona X che può venire a dire, fare... Ragazzi, il discorso è sempre lo stesso, c'è chi fa contenuto e c'è chi critica il contenuto, ecco. Se siamo in certe posizioni ci siamo dati una risposta da soli. Quindi, tolta l'ansia che vi ho voluto condividere per questo nuovo format, ci tengo anche a fare dei disclaimer. In particolare uno, ragazzi, io non ho un MyForestBook, quindi vi prego non venite a chiedermi, ma il MyForestBook non ce l'ho per più motivi. Il primo è che io ho una gestione su più conti, quindi utilizzo più conti per tradare, sono anche conti abbastanza grossi. E quindi, chiaramente, per diversificare il mio rischio vado a tradare su più conti, vado a dividere le operazioni su più conti. Ora, non è importante esattamente il modo, non è importante sapere se replico esattamente quello che faccio su tutti o se vado a fare un'operazione qui, un'operazione là. Vi basti sapere che vado appunto a diversificare il mio conto totale su più conti, più broker, eccetera, eccetera. Tra cui, tra l'altro, ci sono pure delle firm. Detto questo, che capisco essere un discorso che magari per i meno avanzati può sembrare tipo... Perché? Che senso ha? Ecco, ragazzi, quando inizierete ad avere dei capitali grossi, vi posso assicurare che le problematiche diventeranno altre rispetto a quelle che avete adesso. E in primis, nella vostra testa vi entrerà il pallino di dover diversificare il vostro conto, perché non si sa mai nella vita e non vorremmo mai vederci perdere tutto il conto per qualche cavolata fatta da broker, magari. E visto poi come è andato quest'anno, direi che qualsiasi broker è in grado di fare qualsiasi cosa. Quindi, tutela al primo posto. Quindi, capite bene che avere un My4xbook non ha senso perché, avendo più conti, avendo il mio conto diviso su più conti, le percentuali o comunque risultati che poi vedrebbe il My4xbook collegato al conto X o Y non sarebbero la realtà dei fatti. Perché magari lì faccio un'operazione in più, un'operazione in meno, un'operazione con rischio doppio per compensare l'altro. Insomma, non avrebbe senso. Secondo motivo è che non mi interessa averlo. O meglio, per me personalmente ne ho anche qualcuno collegato giusto per fare degli esperimenti, anche perché ho voluto appunto fare delle prove, ma non mi interessa avere un My4xbook da condividere, soprattutto con gli altri, ok? E questo si collega al secondo disclaimer che è riguardante alle informazioni che io vi darò in questo video. Perché, lo dico subito, siete liberissimi di non credere a quello che vi farò vedere. E se non credete a quello che vi farò vedere, non è un problema mio. Ormai, ragazzi, sto diventando sempre più schietta, lo potrete notare dagli ultimi video, ecco, di come parlo ultimamente. Perché mi sono resa conto che l'essere schietti porta veramente molti più risultati a chi ci segue. Perché si fanno vedere le cose come effettivamente sono. E sono sempre più convinta di questo. Quindi, se non crederete a quello che vi farò vedere in questi video, ovviamente siete liberissimi, uno, non farlo, e due, di fare qualsiasi tipologia di domanda, perché sono qui su YouTube apposta. Ecco, siete liberi di non credermi, tutto qua, questo volevo dire. Quindi, fatte queste due premesse del MyForestBook, della libertà che avete nel non credere in questi risultati, faccio un altro terzo disclaimer e poi ci spostiamo perché andiamo a vedere tutti i dati del caso. I risultati che vedrete sono i miei risultati che chiaramente seguono una determinata strategia, la strategia che io utilizzo, la strategia Ichimokers. Questi risultati non sono risultati ufficiali, da regole, nel senso che il risultato che faccio io non è il risultato. È uno dei tanti risultati che la strategia può portare. Con questo che cosa voglio dire? Che in community abbiamo, con la stessa strategia, poi chiaramente filtri diversi, magari regole diverse, coppie diverse, eccetera, eccetera, più risultati diversi. C'è chi fa molto meglio di me e c'è chi fa peggio di me. Quindi, tra l'altro, il mio non è neanche uno dei risultati migliori in assoluto, perché io sono una trader abbastanza conservatrice, anche se non sembra. Trado veramente poche coppie e pochi cross in un modo veramente militaresco, quindi mi ritrovo ad essere veramente molto, molto militaresca nella mia esecuzione. Questo chiaramente porta a fare più guadagni a volte o fare meno guadagni a volte e al contempo di andare a tenere di più il rischio, ok? Quindi ci tenevo a dire questo perché questo è il mio risultato della strategia Ichimokers, ma la stessa strategia può avere tanti altri risultati. A tal proposito, in community abbiamo anche iniziato a fare un format di webinar mensile dove andiamo con determinati Ichimokers, diversi ogni mese, a confrontare i nostri risultati. Proprio questo mese ho potuto vedere come ci sono stati Ichimokers che hanno fatto molto meglio di me e Ichimokers che invece hanno fatto peggio di me. È normale. Poi subentra tanto tanto la soggettività. Quindi se questa è una cosa che vi interessa, vi consiglio ragazzi la community Ichimokers perché la trasparenza al suo interno è veramente massima, molto più trasparente insomma poi di quello che posso trasmettervi io qua su questa piattaforma. Detto questo, visto che ho fatto veramente un'introsi molto lunga, direi di spostarci sui grafici e andiamo subito a vedere questi risultati del mese di gennaio. Eccoci qua ragazzi, allora questo qua è il mio gennaio appunto. Adesso andiamo a vedere un pochettino i trade che ho fatto, poi qua ho una tabella con tutti i risultati e ovviamente una equity che andiamo a vedere ma step by step. Nel frattempo spero che abbiate seguito per bene tutta la intro perché conteneva dei disclaimer importanti quindi se non l'avete fatto ragazzi seguitela, mi raccomando perché se siete qua soltanto per vedere due numeri ok ma se volete prendere l'interezza del video e farne diciamo buon uso seguitevi tutta la parte iniziale. Detto questo, allora mi ritrovo a gennaio ad aver fatto 10 trade. Quindi 10 trade diciamo sono abbastanza nella media, ci sono mesi in cui faccio molto di più ma ci sono anche dei mesi in cui faccio molto di meno. Diciamo che l'ultima settimana di gennaio per me è stata un po' morta, infatti potete vedere l'ultimo trade mio del 19 di gennaio per poi fare una decina di giorni totalmente flat perché non c'è stata alcuna occasione. Quindi che cosa vediamo qua? Vediamo la coppia, il cross dove ho tradato, la direzione, la data dell'entrata, l'ora dell'entrata, la data dell'uscita e l'ora dell'uscita. Il rischio rendimento iniziale e il rischio rendimento finale. Il rischio rendimento finale può essere diverso da quello iniziale perché avendogli un target dinamico questo può chiaramente cambiare, quindi può aumentare o diminuire, solitamente diminuisce. Quando non vedete l'RR finale significa che l'operazione è andata o in stop loss oppure in parziale o break even, quindi poi non è più rilevante dove effettivamente è finito il target. Il risultato, il risultato percentuale e la equity appunto. Quindi prima di andare a vedere trade per trade tutti quanti i risultati, quello che vi voglio dire è che questa tabella mostra un rischio al 2%, infatti potete vedere che gli stop loss vedono uno stop appunto del 2%. Ora, qual è il rischio che io utilizzo? Io come detto nell'intro ho più conti. Ho conti con il rischio allo 0,5, ho conti con il rischio all'1 e ho conti con il rischio al 2. Questo chiaramente dipende dalla grandezza del conto, dipende anche se è un conto di una firm o meno, perché sappiamo bene che le firm ci danno anche dei limiti che dobbiamo rispettare e in generale dipende appunto da che tipologia di conto è, da mille cose. In generale il rischio massimo che io utilizzo è il 2%, questo perché io ho un backtesting di tanti, tanti, tanti anni che mi dice che io col 2% posso tranquillamente lavorare, contenere i drawdown e avere ottimi risultati. Quindi questa tabella qua ve la faccio vedere al 2%. Sappiate appunto che questi risultati sono effettivamente al 2% su un conto, sono all'1 quindi dimezzati su un altro, allo 0,5, allo 0,25 eccetera eccetera su altri conti. Quindi per non stare a fare mille casini che poi appunto portavo un casino con tutte quante le percentuali, andiamo a vedere il 2 che poi è come io contabilizzo il mio backtesting e poi da lì chiaramente mi faccio tutti quanti i calcoli della situazione. Perché al 2? Perché così riesco a tenere sotto controllo il drawdown massimo, ovvero il mio conto che rischia di più, qual è il drawdown massimo che va a toccare. E così ce l'ho sempre sotto controllo. Quindi a questo punto possiamo andare a vedere che chiaramente il mio mese finisce all'8,16. Un'ottima percentuale devo dire, abbastanza nella media. Di questi 10 trade ho avuto un solo target che è stato euro-dollaro neozelandese, tra l'altro è stata anche l'operazione migliore, e poi ho avuto due stop loss che adesso andremo a vedere per bene insieme. Oltre questo poi l'arrotondamento del mese è stato fatto dai parziali. Io utilizzo una gestione che vede i parziali, quindi significa che dopo una determinata spinta mi porto a casa un parziale dell'operazione così che inizio a portare a casa qualcosina ad accumulare e a non lasciare tutto quanto sul tavolo, per così dire. Quindi andiamo a vedere i risultati. Come detto abbiamo fatto 10 trade, di cui un solo target, due stop loss, un break even, quindi uscita totalmente a 0 e 6 parziali. Buona parte del risultato me l'ha dato appunto il mio 6,16. Se vi chiedete come è calcolato questo, è l'RR finale più il parziale che ho preso all'inizio, quindi 5,16 più 1. E poi chiaramente arrotondiamo con tutti gli altri parziali che in totale mi vanno a dare un 6%. Ok, trade profittevoli sono stati 7, trade perdenti sono stati 2, realizzando appunto l'8,16. Vado ad avere un win rate del circa 78%, quindi di questi 10 trade ho preso effettivamente solo due stop loss. C'è stato poi un'uscita praticamente a 0, tutti gli altri sono stati comunque dei profitti, perché è vero che non sono arrivata a target, ma mi sono portata a casa i parziali che per me comunque rispecchiano un profitto, perché esco dall'operazione in modo vincente. Long totali 5, short totali 5, quindi pari pari. Media del target chiaramente 6,16 perché è stato l'unico e quindi fa una media da solo. E media, vabbè, dello stop loss 2 e massimo drawdown proprio il 2, quindi il massimo drawdown del mio mese vede uno stop loss solo. Negli altri conti chiaramente sarà rispettivamente 1,05 o 0,25. Quindi la mia equity è anche proprio molto bella questo mese, devo dire. Abbiamo una prima spinta del primo target, poi c'è stato uno stop loss, poi due parziali che mi riportano esattamente al livello massimo del mio target, un altro stop loss, altri due parziali, quindi torno praticamente ai massimi del mese, questa è stata per me una resistenza, andiamo a fare analisi tecnica sulla equity. Poi c'è stato un altro parziale che mi ha fatto battere i massimi della equity, un break even e un altro parziale, quindi il mese finisce poi praticamente al massimo assoluto che potessi toccare perché appunto è stato il guadagno massimo che ho visto. Ora ho evidenziato appunto quelli che sono stati i trade migliori o meglio 1, il trade peggiore e poi c'è anche evidenziata Eurosterlina perché Eurosterlina, mannaggia lei, da adesso uscirà dalla mia squadra di coppie cross perché negli anni mi ha portato dei risultati troppo negativi. Adesso avendo più storico su trading view c'è la possibilità di andare molto indietro nel tempo e mi sono accorta che purtroppo non può far parte della mia squadra di coppie cross. Quindi purtroppo questa operazione tra l'altro non avrei dovuto farla, chiaramente lo so soltanto successivamente, e quindi addirittura se non l'avessi fatta avrei anche uno stop loss in meno e un risultato molto molto bello. Ma va bene, così non importa chiaramente, bisogna sempre adeguarsi ai mercati e ai cambiamenti di questi e ovviamente ai nuovi dati che vengono fuori. Andiamo a vedere la mia operazione migliore, euro-dollaro neozelandese, che scatta alle 15 del 4 di gennaio. Io quest'anno ho iniziato ad operare praticamente dai primi di gennaio. In realtà per me è scattata di sera perché io ero in Vietnam e quindi l'ho dovuta gestire, tra l'altro poi durante la notte, con più sveglie e alert e l'Apple Watch al polso, perché appunto ho dovuto gestirla con un fuso orario di 6 ore. Quindi per me qua è scattata proprio alle 21. Andiamo subito a vederla. Eccola qua. È stata proprio una bella, bella operazione. Scatta praticamente con una candela, due candele massimo e poi parte. Io qua mi trovavo a cena appunto in Vietnam, quindi è stata proprio anche una bella partenza. e devo dire che è stato il target proprio diretto. Chiaramente ci ha messo più tempo, ma è stato un bel target molto lineare. Il target appunto, il mio target è rimasto fermo lì, quindi come possiamo vedere è rimasto esattamente dove era all'inizio. Quindi è stata proprio una bella, bella operazione, insomma. Come iniziare l'anno al meglio, perché è stata molto lineare, poco travagliata, abbastanza diretta. C'è stato poi un po' di rallentamento da queste parti, però in realtà tra l'altro è successo nella notte in Italia. Io invece ero già sveglia, perché appunto mi trovavo dall'altra parte del mondo. Quindi qua l'ho seguita per bene, vedendo appunto che continuava a ritracciare e lateralizzare. Ma poi c'è stato in definitiva il target. Quindi prima operazione dell'anno, veramente wow. Andiamo invece a vedere la peggiore. Vado proprio a prendere euro-dollaro, perché in realtà euro-sterlina non ci sarebbe dovuta essere. E euro-dollaro va invece a vedere uno stop-loss. Quindi l'operazione partirebbe fuori orario per me. Poi effettivamente, vi chiedo scusa se è molto piccolo, ma purtroppo da web non riesco a fare lo zoom, perché anche facendo zoom da web non mi fa quello dello screen. Ad ogni modo, la cosa brutta di quest'operazione è stata che io l'ho aperta, che ero praticamente mezza in coma, perché ero appena atterrata in Italia. e quindi l'ho aperta mentre stavo tornando a casa in macchina. Fortunatamente non ero io a guidare. Mi sfiora lo stop-loss per poi andare in positivo, sfiorare quello che è il mio parziale. Quindi là mi sarei portata a casa pure una parte, sfiorare più o meno, insomma, per modo di dire, e poi va definitivamente in stop-loss. Operazione che era da fare, era tutto in regola, quindi anche nonostante la stanchezza comunque c'era tutto. E però purtroppo niente è andata così. Seconda operazione dell'anno, quindi chiaramente va a compensare la prima bellissima operazione. Quindi ragazzi, questo qua è il mio mese. Chiudo con una bellissima percentuale. Sono soddisfatta. È, come detto, un risultato medio, se così si può dire, almeno medio per il mio bad testing. Un'altra cosa che vado a tenere in conto è il mio risultato nei confronti del risultato della strategia. Che cosa voglio dire? Che quello che faccio io per essere accountable, per essere disciplinata e per sapere esattamente se ho performato bene è che io vado a rivedere tutte le operazioni che ci sarebbero state da strategia e vado a vedere quelle che io effettivamente ho fatto, perché non tollero errori. Quindi se c'era un'operazione che io non ho preso per svista, errore e altre cose, insomma, non va bene, perché io devo essere disciplinata e attenta al 100%, altrimenti, insomma, questo lavoro non fa per me. Quindi quello che faccio ogni mese è andare a valutare la situazione mia nei confronti della strategia. E questo mese è stato chiuso perfettamente pari pari con la strategia, questo vuol dire che ho colto tutte le occasioni del mercato, non ho fatto errori e non ho avuto distrazioni né niente, quindi questa è la cosa che più mi rende soddisfatta, ancora più del risultato. L'unica, come già detto però, a posteriori chiaramente, è Eurosterlina, che proprio nel mese di gennaio, andando a backtestare altri tre anni, mi ha dato dei risultati non bellissimi, che quindi uscirà. Quindi chiaramente l'unica discrepanza con i risultati effettivi della strategia sarebbe Eurosterlina, ma non lo valuto come errore effettivo durante il mese, perché è una cosa che vengo a sapere dopo. Quindi senza di lei avrei un bel 10% con rischio al 2, o un 5% con rischio al 1, e via così. Quindi nulla, sono molto soddisfatta, ragazzi, e soprattutto il conto che appunto, tra dal 2 ha tirato fuori proprio un bel risultato. Spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto, in qualche modo, che vi abbia potuto spronare, anche solo magari a livello di come gestisco il file, per farvi vedere tutto questo. Ora, io in realtà ho un altro training journal, questo lo faccio appositamente per YouTube, ne ho un altro molto più dettagliato, con screen di ogni tipo, ma qua volevo andare più veloce, comunque un po' più easy. Spero appunto che però questo video vi abbia dato qualcosa di buono. Come detto, ragazzi, io vi faccio vedere tutto ciò a scopo formativo, sperando che voi possiate prendere ispirazione, non sono qui a far vedere quanto sono brava, anche perché arriverà per forza di cose il mese negativo, e io vi dovrò far vedere anche quello. E quindi ci rivediamo quando ci sarà il mese negativo, chiaramente. Questa trasparenza che sto portando con voi su YouTube, spero appunto che vi possa dare qualcosa, e vi ricordo, ragazzi, che in community questa trasparenza è all'ordine del giorno. Quindi se state cercando un percorso di trading, state valutando i C-Mockers, ecco, non pensiate alla community come uno di quei posti dove il coach si fa tutto bello figo, fa vedere risultati assurdi, o addirittura non li fa vedere, perché c'è veramente una trasparenza pazzesca in community. Ognuno di noi va a far vedere i propri risultati mensili, giornalieri, settimanali, e chi più ne ha più ne metta, nonché anche di backtesting, ci si confronta tanto su quello. Quindi, niente, spero insomma di esservi stata d'aiuto, di esservi, di avervi intrattenuti, e se volete saperne di più, potete trovare molto probabilmente quello che cercate in community con tanti altri confronti, con tanti altri traders, in particolare i C-Mockers. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, e noi ci vediamo in un prossimo video.